Squadra che vince non si cambia, così Ernesto Magorno, primo cittadino uscente di Diamante, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni del 6 e 7 maggio. La lista il sole risplende ancora, dunque è pronta a scendere in campo. Sabato scorso la prima uscita pubblica in un clima di piena campagna elettorale. C'è tutta la coalizione, c'è la città che ancora una volta ci ha dato fiducia con questa straordinaria presenza di gente che vuole significare un affetto attorno al sindaco della città ma anche attorno a una strategia politica, una linea politica, una coalizione che in questi anni abbiamo portato avanti e che ha governato a mio avviso bene il paese. Un incontro con la cittadinanza per sciogliere ogni riserva ma anche per fare un bilancio dei 5 anni di amministrazione che stanno per concludersi. Io credo che noi abbiamo fatto bene, in un momento difficile abbiamo dato a Diamante un ruolo di centralità nel terreno cosentino e in Calabria. Di noi hanno parlato i media, hanno parlato i giornali, abbiamo saputo imbossare i rapporti con gli enti sovraistituzionali, anche quelli governati da aree politiche diverse dalla nostra. Insomma abbiamo dato un impulso di sviluppo alla città e continueremo ad andare in questa direzione.